Sono qua oggi in mezzo a un po' di gente, ai fori imperiali, per provare un trucchetto per l'audio che vediamo come va, diciamolo presso un po' da un'idea sul canale di Micro4Nerds. Ma siccome non tutti hanno, magari sanno l'inglese, provo a vedere qual è la differenza tra registrare con i microfoni direttamente della macchina fotografica. In questo caso una GX9 della Panasonic che registrava sempre con gli stessi microfoni, però passandolo poi in un programmino gratuito fornito da Adobe che dovrebbe permettere di focalizzare meglio l'audio in un intorno, diciamo, complicato. Questo dove in questo momento ci sono bambini che passano, che urlano passando in bicicletta, eccetera. Vediamo la differenza. Anche perché effettivamente sarebbe una grande differenza.